ciao bella gente io sono legno gamer bentornati sul mio canale oggi giocheremo di nuovo a vrc8 però una sessione libera faremo volevo anche dirti che se ti fa piacere e mi vuoi supportare sotto il video puoi anche iscriverti attivando la campanella facciamo il rally di monte carlo ancora questa volta giocheremo con le junior vrc ford fiesta r2 proviamo questa vediamo se proviamo a sentare una nuova telecamera se riusciamo ad andare un po meglio o peggio vediamo che cosa combiniamo eccoci qua sulla pista nostra ford fiesta r2 vediamo cosa che cosa combiniamo quante volte ci stampiamo allora facciamo start proviamo questa telecamera si possono vedere le marce e destra quattro in sinistra sei corta in sinistra cinque esattamente giocando con questa telecamera 50 molto più reale però è difficile sembra di fatto giocare con la telecamera fuori dalla macchina attenzione destra cinque stringi frena in sinistra tre corta 30 sinistra quattro corta in destra quattro corta 30 vediamo che subito bisogna scaldare un po' la mano in destra cinque corta frena oh pericolo in sinistra in destra quattro stringi e destra quattro chiude in sinistra tre corta 50 su cima mamma mia quanto è molto più difficile sinistra tre corta in destra tre corta 50 però è molto più realistico ma guarda che le botte non sono realistiche in sinistra due chiude in destra tre corta in sinistra due corta adesso che siamo sotto il periodo di natale spero di non andare a prendere qualche albero in mezzo a qualche taglia in destra tre in mezzo alle montagne in sinistra due chiude in destra tre apre tutto fatto difficile eh questa telecamera e destra tre chiude 50 si attenzione dosso in destra quattro corta 50 eccolo lì a momenti lo prendevo destra cinque stringi e sinistra quattro chiude in destra quattro e comunque questo motore si sente parecchio il tornante eccolo lì sinistra piena su cima in destra tre chiude comunque non è che va così male però e sinistra tre corta 50 ho appena finito di parlare porca miseria ho detto non è che non va così male ho finito l'isotto il primo albero di natale e destra tre corta non tagliare in sinistra tre e destra due corta 50 sinistra quattro corta e sinistra tre corta 80 non sbagliare troppo se no non arriviamo manco alla fine del traguardo sinistra quattro chiude in dosso in destra cinque eccolo qua andiamo a fine di sotto in sinistra cinque corta e sinistra tre in destra quattro 80 guardate questa tutta pista è proprio bella sinistra cinque corta 80 attenzione tornante destro 120 non è che è andato tantissimo non mi sono andata a sbagliare e destra quattro media chiude 30 facciamo da un destra tre corta frena all'incrocio in sinistra due taglia poco 80 la misera destra cinque in taglia veloce stai al centro 50 ci prova a stare al centro in sinistra due corta non tagliare beh l'ho stupido sto stretto in destra tre 30 sinistra destra sinistra destra qua un po' più lungo sinistra due in destra tre in sinistra quattro stringi in destra tre chiude in sinistra tre chiude in destra tre stringi in destra tre stringi in destra due corta non tagliare con questa telecamera in sinistra quattro si vede molto meglio la strada in sinistra tre corta molto più difficile perché sono dei pregi e dei difenti così vede meglio la strada però non essendo abituato a questa telecamera sinistra piena in destra cinque molto lunga chiude non tagliare ci metto un po' ad ambientarvi a questo visuale io in sinistra piena 100 sinistra quattro corta 80 destra tre corta in sinistra due corta in destra tre e sinistra due corta tre destra sei molto lunga chiude ma è che si batteva in sinistra piena chiude in sinistra quattro stringi in sinistra quattro stringi 30 frena 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 accelera guardi la trazione si gira la macchia destra cinque 80 destra sei stringi e sinistra quattro corta in destra quattro in freno pesante secca sinistra sopra ponte 30 attenzione freno pesante secca sinistra stringe 150 vai vai a fuoco destra sei corta 50 su cima sinistra cinque corta su cima in destra cinque corta e frena per tornante stretto destro tornante sono al mio forte in sinistra piena e destra piena su cima 30 eh non ho detto che sono al mio forte tra tanto ci aveva lasciato due o tre secondi qui come minimo attenzione taglia 30 taglia tornante stretto sinistro 30 vai destra è andato vai destra quattro in sinistra quattro corta un po e tornante destro per arrivo vediamo che il tempo abbiamo fatto settimo parca misera sti 9 secondi sti 9 secondi poteva essere nei primi vabbè legno gamer è tutto io vi rimando a un prossimo video su vrc8 vi ringrazio per essere stati fino a questo punto di video come sempre vi ricordo di lasciare un like di commentare e di iscrivervi se non lo avete ancora fatto basta schiacciare sotto il video iscriviti e attivando la campanella alla prossima ciao ciao